Salve, io sono Sapio Anna, ho 42 anni, io ho pensato di cambiare qualcosa del mio aspetto visto l'età. Io so che non si cambia niente, ci dobbiamo accettare per come siamo, però se vogliamo migliorare possiamo fare qualcosa. Non esagerare, si possono fare degli interventi di regia con molto naturale, senza esagerare perché l'esagerazione non va bene. La semplicità e le cose vanno fatte con professionalità e precisione, come io ho scelto questa clinica perché è molto nominata, anzi molto professionale, viene accolto in modo molto professionale, si impegnano tutti a soddisfare le tue esigenze e questa è la clinica Erdem. Farò questo percorso, fino adesso è andato tutto a posto, anche l'accoglimento in aeroporto è andato tutto a posto. Vediamo la procedura e come procede, nei prossimi giorni vi farò vedere tutti i miei risultati di criti estetica.